Siamo contenti di aver portato a termine il terzo dei sottopassi che rientrano nel contenitore sotto passaggi d'arte urbana. Per questo 2021 abbiamo concluso quindi il terzo, che è questo di Via Milano. I primi erano quello di Loreto e quello di Via Lamarca. E quest'ultimo l'abbiamo voluto dedicare ai borghi e castelli della nostra città. Ci sembrava doveroso perché sono posti meravigliosi del nostro entroterra comunale che vorremmo sempre più far conoscere e sempre più promuovere. Anche perché abbiamo vinto, come tutti sanno, il bando Pinqua che andrà a rigenerare i nostri borghi e i nostri castelli con investimenti di milioni e milioni di euro. Partiamo da questo piccolo murale per un percorso che vedrà nei prossimi anni proprio la rigenerazione e la riqualificazione di questi borghi. Il murale parla di Ginestreto, parla di Pozzo Arto, viene raffigurata Novilara, Candelara, Fiorenzuola, tutti i luoghi del nostro comune e vengono rappresentati gli edifici storici, ma non solo, ma anche le icone di questi posti che sono un po' le tipicità, ovvero ad esempio a Novilara abbiamo voluto rappresentare il piatto per eccellenza che è la tagliatella col fagiolo e anche la stela di Novilara. A Candelara abbiamo, per dire, rappresentato le candele chiaramente, ma anche l'arcolaio che comunque sia un simbolo di Candelara. A Fiorenzuola i fuochi di Focara e Dante. Abbiamo voluto raccontare attraverso questa bellissima opera realizzata da Rossella tutte le tipicità e le cose belle che abbiamo all'interno dei nostri borghi. Ho fatto lavori per terra, ho fatto lavori sulle pareti, tutta una loro difficoltà, non so dirti qual è la difficoltà maggiore. È sempre una sfida comunque, quello è bello, è superare tutte le volte il tuo limite, è sempre superare il proprio limite tutti i lavori che fai. E quindi è una crescita e fa sempre piacere e poi regalarle alla città è bellissimo, è molto più bello che tenersi lì nello studio. Per il prossimo anno abbiamo altri tre sottopassi che saranno lo sottopasso di Via Gradara, il sottopasso di San Decenzio e l'altro sottopasso di Loreto. Continuiamo a colorare la città e a renderla sempre più bella e attraente. Grazie. 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 Grazie.